Cari amici ben ritrovati, proprio in queste ore una cintura di nubi alte e stradiformi si sta compattando dai settori tunisini ed algerini verso i settori meridionali dell'Italia. Attualmente maggiormente interessate da questi addensamenti sono la Sicilia e la Sardegna. Anche se nelle prossime ore un cedimento varico sui settori settentrionali permetterà a queste depressioni di spostarsi verso nord coinvolgendo in maniera più marcata i settori meridionali con possibili precipitazioni. Oggi quindi i settori più interessati saranno le isole e la Calabria ma da domani a caso dello spostamento verso nord della depressione verranno interessati anche i settori centrali italiani ancora comunque senza fenomeni. Mentre qualche fenomeno interesserà le estreme regioni meridionali particolarmente domani e sabato ma vediamo adesso il tempo per la giornata di invierna anche sulla nostra provincia. Previsto ancora tempo poco nuvoloso o velato ma senza fenomeni. Le temperature si manterranno sui 18 gradi nei valori massimi e minime di 9. Venti moderati soffriranno da sud est e sempre da sud est in serata ma di debole intensità ed il mare nello stretto di Messina sarà poco mosso. Anche sul versante tiranico cielo poco nuvoloso in un contesto comunque sereno. Le temperature si porteranno ai 16 gradi diurni e 10 nella notte ed i venti di moderata intensità soffriranno da est nord est, da est nel pomeriggio e da est sud est in serata ed il martireno sarà poco mosso. Sul versante ionico sereno poco nuvoloso, possibili deboli piogge si prevedono in serata. Le temperature si manterranno tra 14 e 5 gradi e i venti di moderata intensità soffriranno da sud est, da est sud est nel pomeriggio di debole intensità e da est nella sera ed il marionio sarà poco mosso. Nella giornata di venerdì 14 marzo sulla Sicilia nubi in aumento e tendenza a qualche pioggia nell'arco della giornata. Su tutte le altre regioni invece condizioni di bel tempo ma con nubi in aumento sulla Campania e la Calabria, particolarmente nel pomeriggio sera ma ancora senza fenomeni. Sulla nostra provincia è prevista nubi sparse anche se nella tarda mattinata ed in serata saranno possibili fenomeni a carattere di pioggia debole. Le temperature si manterranno tra 17 ed 8 gradi e i venti di debole intensità soffriranno da sud sud est con mari poco mossi. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.